Con Renato Campinotti, presidente dell'Associazione Firenze per la Palla Canestro, per presentare il torneo Banca di Cambiano Memorial Barrasi dal 18 al prossimo 20 settembre. Un bel torneo che torna dopo 4 anni, che lascia un bel significato per lo sport fiorentino. Senz'altro, noi siamo impegnati come associazione, con le maggiori società del basket fiorentino, a valorizzare il basket giovanile. Questo torneo, che facciamo grazie al supporto della Banca di Cambiano e così anche lo intitoliamo insieme al nome di Barrasi, grande dirigente, vuole essere questo, un punto di riferimento annuale per fare di Firenze una delle capitali del basket giovanile.